Roma in pieno centro, Via del Gesù, ufficio della provincia autonoma di Bolzano. Importante nuovo traguardo per l'autonomia altoatesina. Ufficializzato infatti l'accordo con poste italiane per concreti passi in avanti nella qualità del servizio offerto alla cittadinanza. Avere un servizio postale che funziona è un fattore fondamentale per la competitività di un territorio, per i singoli cittadini, ma anche per lo sviluppo di tutto il sistema, anche dell'economia. Noi avremo in futuro il servizio del recapito 6 giorni su 7, garantito anche per tutti i prodotti editoriali, ma soprattutto avremo anche la garanzia che non ci saranno più chiusure di uffici postali, che ci sarà lo smistamento a Bolzano e così si avrebbero anche i tempi di recapito. La firma dell'accordo insieme all'amministratore delegato di poste italiane Francesco Caio per sottolineare l'importanza del percorso già avviato da poste italiane. Un percorso, ha detto Caio, di ascolto e dialogo con i territori e le comunità per servire i nuovi bisogni e accompagnare il paese verso l'economia digitale ed una maggiore competitività. Un esempio della collaborazione e del dialogo che poste italiane ha con i territori, nel caso specifico anche in un alveo istituzionale particolare, quello della provincia autonoma, nel quale noi abbiamo combinato, coniugato la nostra presenza nazionale con la capacità di sviluppare dei servizi che verranno pagati dalla provincia e che sono disegnati per la specifica esigenza del territorio che noi andiamo a servire. Quindi un esempio interessante di collaborazione fra una grande impresa nazionale e un'istituzione locale che lavorano insieme per fornire ai cittadini e alle cittadine il miglior possibile servizio. L'accordo con poste italiane garantisce un servizio di qualità sicuro e innovativo a cittadini e imprese, migliorando la presenza sul territorio. Questo accordo è una serie di tante misure anche destinate a valorizzare soprattutto il mondo rurale. Noi monitoreremo anche sulla qualità poi dell'attuazione di questo accordo e continueremo a valorizzare ancora il servizio postale sul territorio nell'interesse dei cittadini. A Roma è stata chiusa una lunga trattativa, caratterizzata da una positiva collaborazione con poste italiane e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La cifra, messa a disposizione dal bilancio provinciale, è pari a 3.200.000 euro, fondi che verranno detratti dal bilancio dello Stato tramite la procedura prevista dall'Accordo di Milano. A questi se ne devono aggiungere altri 6.800.000 sotto forma di ulteriori servizi, tra i quali la riapertura del centro smistamento e distribuzione di Bolzano e altre iniziative con una forte spinta alla modernizzazione per un totale di 10 milioni di euro. A Bolzano e Milano infatti verranno aperti due punti di ritiro per la sempre più diffusa pratica dello shopping online e dell'e-commerce.